Dove siamo? Per chi è cieco, per chi non vedesse, però non c'è la Peroni normale, è caro, è caro, vediamo la birra che al maestro Vignola piace tanto, se la fa capire, stava cadendo tutto. Buono, questo come ci chiamano? Supplì, non era supplì, va bene, è tipo supplì, no, cestino di supplì, alla matriciana. Con il riccio, arancini. Buono. 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 Buono.